musica 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 eh? amore? non ti sento più? eh amore scusa mi sono innerbosito un attimo e sto utilizzando la mano per ritirarlo su ma come la mano? che c'entra la mano? dai amore è questione di un minuto ma come di un minuto? che faccio sto a guardare eh amore vieni in incontro ma dovresti essere tu a farlo scusa amore dammi una mano guarda quella tua sta andando benissimo quindi dai 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 sta tornando ma che uccello viaggiatore che sta tornando è pronto è pronto è pronto ma come parli ma che stai cucinando pollo che è pronto dai è duro è duro allora lascialo cucinare un'altra cosa è duro scusami è che stavo pensando al mio capo ufficio al tuo capo ufficio? si e oggi mi ha fatto un cazziatone davanti a tutti questa cosa non mi è scesa e tu pensi al tuo capo ufficio mentre fai l'amore con me? lo so non lo so come si è insediato nella mente è venuto lì da solo ho capito ma è come se io pensassi al tuo fratello mentre faccio l'amore con te tocchiamo è una situazione imbarazzante te ne rendi conto vero? evidentemente mamma e papà bene litigano come al solito già via 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 Grazie per la visione!